Ciao, per la rubrica stranezze nel mondo voglio presentare questo video sulle stranezze nella vita di coppia. Allora, in Burkina Faso, ad esempio, i mariti autorizzano le mogli ad avere uno o anche più amanti. Però regole che gli amanti poi devono rendersi disponibili ad aiutare l'uomo nei lavori, insomma, qualunque cosa, lavori di manovalanza, lavori di fatica, l'uomo debba fare ha diritto, diciamo, a rivolgersi agli amanti della moglie. E ovviamente questi amanti, non è che la moglie se li può scegliere, cioè devono essere autorizzati dal marito prevalentemente. In Giordania, invece, nelle relazioni di coppia esiste una legge che prevede, affinché il matrimonio, diciamo, conservi la validità, da questo punto di vista legale, diciamo, che i coniugi abbiano un rapporto sessuale almeno ogni quattro mesi. Ma poi non si capisce bene chi andrà a certificare, fino a che età bisogna mantenere questo. Comunque, sono quelle cose strane che la legge, diciamo, di alcuni paesi prevede. E altra stranezza di coppia è in Congo. In Congo vige una società matriarcale, cioè le donne hanno il predominio. E in Congo, per legge, il marito, diciamo, non può sottrarsi ai doveri coniugali su richiesta della moglie, cioè deve soddisfare le esigenze della moglie qualora questa di loro richiede. Non può dire di no, fondamentalmente. E un altro rituale di coppia strano è in Colombia, dove nella prima notte di nozze, per verificare, diciamo, che venga consumato effettivamente il rapporto, ci devono essere dei testimoni. I testimoni sono le mamme, rispettivamente, dello sposo e della sposa, che certificano, diciamo, visivamente che la coppula avvenga, sia avvenuta nella realtà. E altra cosa strana di coppia un po' promiscua in questo caso è in Libia, dove la legge consente di avere rapporti sessuali con animali, però soltanto con animali femmine. Se uno avesse rapporti sessuali con animali maschi, allora lì proprio ci sarebbero delle pene terrificanti. Bene, queste sono delle stranezze dal mondo della vita di coppia. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!